Allora, questo è l'hostel catedrale, la parte interna, quasi tutte le camere danno sul cortile interno, sotto c'è il ristorante, adesso non c'è più, cioè c'è ma non si fa più colazione inclusa, la colazione inclusa si fa all'ultimo piano e anche la cena. E adesso andiamo all'ultimo piano. Qui si fa colazione, c'è un panorama stupendo, viene 180 pesos e la camera da 6 persone. Qui si fanno i toast, si scaldano, poi ci sono la pancetta, i fagioli, che ormai sono finiti. Aspetta la pancetta. C'è un succo di frutta. Il mio nome è Bruno? Bruno, sì. L'hanno buscato per telefono. Ah sì? L'hanno buscato per telefono per cercare un numero. E che volevo dire, qui c'è il tè con il caffè e con il latte si aggiunge, poi c'è la frutta che è meravigliosa, la papaya e altro. Oggi c'era la papaya con il cocomero. Questa è la piazza, questa è la cattedrale, questa. Anche di sera è molto bello. Ieri sera non sono venuto, ma non penso che si ballasse, era lunedì. Però l'altra volta quando ero venuto si ballava, quindi penso che nei fine settimana si balli, forse anche più spesso, qui dove stiamo adesso mangiando. E là in fondo alla notte diventa viola, perché ci sono dei proiettori di luce, e quel palazzo che adesso si nota di meno è stupendo di notte per viola. E qui sotto c'è stato ieri il ballo azteco, maia, boh non lo so, che ho ripreso. E adesso ho fatto un giro. Andiamo a vedere l'altro panorama dalla parte di su. Che altro c'era? C'era qualcos'altro che mi hanno dato da mangiare. Ah, la marmellata, il burro.